Saggese, premium partner Sciuco, è al tuo fianco per la progettazione e l'installazione di serramenti, porte, outdoor, coperture e non solo. Saggese S.P.A. Serramentisti per vocazione dal 1982. Il deputato Edmondo Cirilli, leader indiscusso di Fratelli d'Italia in Campania, è il nuovo vice ministro degli esteri. La nomina sottosegretario è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri che si è riunito nel primo pomeriggio di ieri a Palazzo Chigi, mentre la delega di vice ministro gli sarà attribuita nei prossimi giorni. Dedico questo nuovo grande traguardo alla mia famiglia che mi ha supportato e supportato sempre, ha commentato a caldo Edmondo Cirilli, il quale ha inoltre ringraziato gli elettori che in questi anni lo hanno sempre sostenuto consentendogli di arrivare fin qui. Ringrazio i tanti amici di partito che in questi anni hanno condiviso con me questa bellissima militanza, alla scuola militare Nunziatella e all'arma dei carabinieri che mi hanno formato. Il nuovo vice ministro inoltre ha espresso un ringraziamento speciale alla leader Giorgia Meloni per aver sempre creduto in lui in questi anni sin dalla fondazione di Fratelli d'Italia. Grande soddisfazione è stata espressa anche dallo stato maggiore cavese del partito. Alla Farnesina Cirilli sarà il vice di Antonio Tajani, anche egli molto noto del nostro territorio essendo la sua famiglia di origini vietresi. A quanto pare Cirilli si occuperà di commercio internazionale. Il giuramento è in programma domani 2 novembre.